Dove si trova quel bambino nato da poco, il re dei giudei? In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti per onorarlo. Il re Erode radunò tutti i capi dei sacerdoti e i maestri della legge. In quale luogo deve nascere il Messia? A Betlemme, nella regione della Giudea, perché il profeta ha scritto Tu Betlemme, del paese di Giuda, non sei certo la meno importante tra le città della Giudea, perché da te uscirà un capo che guiderà il mio popolo, Israele. Chiamate i magi Allora, quando è apparsa la stella? Circa due anni fa Andate a Betlemme e cercate con cura il bambino Quando l'avrete trovato, fatemelo sapere Così anch'io andrò ad onorarlo Ricevute queste indicazioni da parte del re, essi partirono La stella si muoveva davanti a loro Fino a quando non arrivò sopra una casa Là si fermò Essi entrarono in quella casa E videro il bambino Si inginocchiarono Lo adorarono E gli offrirono dei regali Oro, incenso e mirra Più tardi, in sogno Dio li avvertì di non tornare da Erode Essi allora presero un'altra strada E tornarono al loro paese Oro, incenso e mirra Oro, incenso e mirra